Gli spagnoli ci circondano. Non c'è tempo per armarsi a tovere. Tu sei il sovrano. All'Asia Contesima. Dobbiamo chiamare Ruggia. Non c'è altra soluzione. Ci hai liberati, Selim. Ora io sono qui. Selim? Ma Selim? Qualcuno mi aiuti! C'è un traditore. Noi lo troveremo e poi lo puniremo. Io non voglio morire. Ci dobbiamo nascondere. No, faremo il contrario. Che si crede di essere? Di solito liberiamo una città e ripartiamo subito dopo. Perché vuoi restare questa volta? Zafira. Conta solo Algeri. Selim era un fratello. Non ho ucciso mio fratello. Portami l'assassino allora, se è la verità. Sono la madre di Yaki Atalibi! Perché hai deciso di sposarla? Non è quello che avevamo pianificato insieme! Siamo con te. Esiste un solo padrone che mi ammiri come ammirano il soltano.